Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura la cronaca, immagini della vergogna da Torre del Greco, un video mostra un uomo che viene aggredito in strada da tre giovani. I carabinieri di Napoli invece hanno arrestato alcuni esponenti dei clan locali per truffe edilizie. Passiamo ora all'emergenza sanitaria con lo show del governatore De Luca ai microfoni di porta a porta. Il presidente ha attaccato il governo per quanto riguarda il piano vaccinale e rilanciato sulle riaperture di ristoranti e turismo. Invece il consigliere comunale Valerio Ciavolino ha attaccato l'amministrazione di Torre del Greco a partire proprio dai ritardi sulle vaccinazioni. In conclusione abbiamo ascoltato i torresi per sentire le loro preoccupazioni per quanto riguarda il ritorno dei contagi fra i banchi di scuola. Questo ed altro nei nostri servizi. Violenza a Torre del Greco. Anziano pestato e offeso in strada. Circola da poche ore il video di un uomo apparentemente anziano che viene aggredito da tre giovani. Le immagini parlano da sole, gli aggressioni lo seguono in un vicolo, lo scherniscono e lo attaccano ripetutamente con pugni e spintoni. Non è chiara la zona dell'aggressione. Le immagini sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. Il video sta circolando sui social ed è stato condiviso sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Tanta l'indignazione per le immagini della vergogna. Questa mattina a Marano di Napoli i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di tre indagati, due in carcere e uno negli arresti domiciliari, ritenuti gravemente indiziati di trasferimento fraudolento di beni, aggravato dal metodo mafioso. Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo di Napoli e coordinate dalla DDA hanno consentito di sequestrare preventivamente nel quartiere cittadino di Montesanto un cantiere dire relativo a un complesso immobiliare su due livelli esteso su superficie di 800 metri quadrati, costituito da 12 mini appartamenti in assenza di autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, per un valore di circa 3 milioni di euro. Inoltre nel corso delle investigazioni sono stati raccolti gravi indizi in ordine alla riconducibilità di fatto di una società intestata ad un prestanome ed impegnata nella ristrutturazione della citata struttura a due soggetti considerati espressione imprenditoriale del clan Polverino Nuvoletta, operante a Marano di Napoli. Le indagini hanno permesso altresì di riscontrare che la citata impresa, negli anni 2018-2019, aveva avuto in vari quartieri cittadini commesse per lavori per oltre 400 mila euro. La società è stata sottoposta a sequestro preventivo con l'intero assetto patrimoniale per un valore complessivo di oltre 100 mila euro. Mancano alla Campania 250 mila dosi di vaccino. Vorrei dire con un linguaggio da omelia diciamo con quale coscienza si accetta di togliere alla Campania 250 mila dosi. De Luca Show a porta a porta. Il presidente della regione Campania, ai microfoni della nota trasmissione di Rai 1, non ha perso l'occasione di attaccare il governo e le sue scelte. Il presidente ha nuovamente denunciato le disparità di trattamento per la distribuzione dei vaccini fra le varie regioni, differenze che avrebbero compromesso la campagna vaccinazione in Campania. Per il governatore è necessaria l'approvazione del vaccino Sputnik, di cui la Campania ha già acquistato autonomamente dei lotti. Il nuovo farmaco potrebbe fornire le basi per la ripartenza delle attività economiche. Sputnik, mi domando che cosa sta facendo l'Italia? Perché dorme in piedi? Perché il vaccino aggiuntivo rispetto ai quattro vaccini contrattualizzati dall'Europa, e cioè Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il vaccino aggiuntivo poteva servire a darlo alle categorie economiche, quindi a dare respiro all'economia del nostro paese, ma la Germania si muove, il governo italiano dorme in piedi, come si dice, dalle nostre parti. La Campania pone un altro problema, quindi totalmente d'accordo, ultraottantenni, settantenni, eccetera. Uno di coerenza del governo, un altro di rapporto con le categorie economiche. Coerenza del governo, ma si può dire alle famiglie italiane, noi apriamo le scuole in sicurezza e poi non muovere un dito per il trasporto pubblico locale. Gli autisti dei Pullman non hanno 80 anni, ne hanno 30, 40, 50. Così per le categorie economiche c'è almeno una categoria economica, quella del comparto turistico, per la quale i tempi sono decisivi. Se entro maggio non prendiamo misure conseguenti, noi avremo una stagione turistica pregiudicata. Il problema del contagio è rappresentato dalla movida totalmente fuori controllo. Ma il problema della movida fuori controllo è un problema dello Stato italiano, delle forze dell'ordine, non dei ristoratori che in maniera controllata rigorosa, contingentata, possono lavorare. Il problema che pone la Campania è questo, noi siamo entrati in una seconda fase, diversa da quella di un anno fa. Un anno fa il problema era chiudere tutto. La seconda fase si apre perché abbiamo due novità, i vaccini che non avevamo un anno fa e un'economia del Paese che è stremata. Dunque noi riteniamo che sia ragionevole muoversi su due piani, continuare a vaccinare per fasce di età, ma contemporaneamente dare una mano in condizioni di sicurezza alle categorie economiche. Parliamo della campagna vaccinale a Torre del Greco, quali sono le attuali criticità? La prima è il sito ovviamente che per una città così grande non riesce ad accogliere e a esaurire diciamo tutte le richieste. Abbiamo un ospedale che ha una immensa grandezza e anche diversi ingressi potrebbe essere utilizzato quello e aveva già le strutture anche per un eventuale shock anafilattico che potrebbe capitare durante queste cose. La programmazione non c'è stata, tant'è che non c'è stata che si vede che chi ha ordinato o prenotato un vaccino due mesi fa si trova tra forse un mese con la possibilità di poterlo fare. Ma tante categorie come i marittimi che lavorano anche all'estero e che hanno la necessità di essere vaccinati prima di poter uscire dall'Italia non sono stati proprio presi in considerazione. Quindi la programmazione è venuta a mancare. Abbiamo avuto un anno di tempo, si parlava tanto di vaccini, sono arrivati, ma adesso la programmazione non è efficiente ed efficace. Da cosa dipende questa mancata programmazione? Beh, intanto le responsabilità sono da scrivere a tanti. La regione non è da meno, io dire, delega perifericamente a chi poi dovrebbe risolvere il problema e i comuni che hanno dato disponibilità. Sono tante combinazioni insieme che danno un danno irreparabile per questa malattia oscura che è ancora oggi oscura per tanti. Lei ha parlato dell'ospedale Marisca, ad oggi qual è la situazione? Beh, intanto la regione Campania non sa che ha tante strutture delocalizzate sul territorio, tra le quali questo dell'ospedale Marisca che è stata decretata alla sua morte già un po' di anni fa. con l'apertura dell'ospedale di Bosco, ma io dico ancora con la morte anche di Bosco con l'apertura dell'ospedale del mare. È una volontà politica che nasce da tempo e che chi ovviamente ha occupato ruoli di potere in questo periodo a livello regionale sovraordinato al comune non ha fatto nulla per poterla far ripartire. L'ospedale Marisca, ripeto, ha e aveva e ha ancora oggi le prerogative, le possibilità di avere anche una rianimazione e quindi fare una piastra di emergenza-urgenza finalizzata a raccogliere non solo il Covid, ma anche quella che è l'ordinarietà, perché non si muove solo di Covid. Al di là dell'emergenza sanitaria, quali sono gli altri deficit che riscontra nell'amministrazione attuale? Questa amministrazione non ha una proiezione perché è nata, diciamo, sull'egida del voto di scambio, ma non ha una programmazione futura perché non ha una testa che pensa. Per fare un esempio molto classico, il sindaco aveva promesso l'ordinario, lui ha vinto perché diceva alla gente io darò l'ordinario, l'erba, la spazzatura, noi siamo affossati di erbe e di spazzatura, ma la cosa grave è che arriva un problema, lo studiano, lo abbandonano, arriva il secondo e si mettono a studiare il secondo, cioè non risolvendono il primo e il secondo. Questa è l'amministrazione attuale. Per quanto riguarda invece il settore, quali sono le problematiche principali? Beh, su questo io da Presidente della Commissione d'Inchiesta sui rifiuti ne ho trattato e le carte sono state anche inviate agli organi sovraordinati e proposti. Ancora oggi abbiamo problemi di trasbordo fatto in un modo non secondo legge, che si continua a fare su tutte le state cittadine, soprattutto in periferia, che porta anche inquinamento ambientale, ma nessuno, nessuno vede niente. La questione rifiuti è solo un carico di costi per i cittadini, ma non si ha un'efficacia o un'efficienza. Parliamo della bagarre successa per l'approvazione del bilancio. Al momento che la conduzione non è stata corretta, quindi per conduzione intendo chi ha il potere di determinare e di fare scelte rispetto alle quali si deve dare il giusto indirizzo in un'assise, che è la massima espressione cittadina, si è creato poi un putiferio perché si voleva cacciare un consigliere comunale senza adire alle giuste regolamentazioni sia dello statuto e del regolamento e quindi in modo, voglio dire, atipico, anormale. E quindi tutti quanti noi a quel punto ci siamo ribellati, perlomeno noi della minoranza. Certo la gente non se ne fa una buona idea di quello che è la gestione di questa nostra città. Questa amministrazione fa in modo da deviare la cittadinanza dei problemi, facendo capire che poi probabilmente c'è una responsabilità da scrivere ad altri. Riaperte le scuole in queste settimane ma riprendono ad aumentare i casi nelle scuole, lei è preoccupato? Sicuramente è una situazione paradossale perché evitiamo gli assembramenti, facciamo stare negozi chiusi e poi creiamo dei maxi assembramenti in queste scuole, quindi sicuramente la didattica a distanza non è una valida alternativa, veramente siamo con le braccia proprio cadute in terra. Quale può essere la soluzione secondo lei? Bella domanda, credo che la dovremmo rivolgere ai virologi a questo punto, perché pare che anche i vaccini non siano così tanto efficaci alla fine, quindi veramente siamo nelle mani del nostro signore. E notizie che ieri gli Stati Uniti hanno sospeso in via precauzionale Johnson & Johnson, è preoccupato visto che comunque Johnson & Johnson è arrivato anche in Italia. Sicuramente, perché aziende così grosse che comunque si sono prodicate per fare il vaccino e alla fine creino anche questi problemi di salute, sicuramente sono preoccupato. Io penso che se si adottano tutte le condizioni di sicurezza e tutti i protocolli, è anche giusto di aprire la scuola, con attenzione, con moderazione, perché comunque questa chiusura è andata avanti per molto, però è stata giusta fino ad oggi, con i vaccini stiamo andando avanti, i ragazzi devono comunque socializzare, muoversi, non possono avere questo tipo di blocco così prolungato. Aprire in sicurezza, monitorare la situazione e magari fare fino al 30 giugno, per esempio, fare questi mesi pieni in cui possono un pochettino recuperare. Quindi non teme che possa degenerare la situazione come è successo in questi mesi, nel corso di questa pandemia? Beh, ma l'abbiamo visto, diciamo, a livello magari, ecco, di altre attività, in quella scolastica, sì è vero, forse tutto il personale che gira intorno potrebbe, ma quello deve proteggersi, deve fare attenzione. Penso che anche il personale degli insegnanti, come vaccini, sia stato già completato, come vaccinazione e quindi anche tutto per questo motivo, ecco, proprio per progredire e andare un pochettino avanti. Però, ripeto, non deve essere una cosa, diciamo, vista come una sottovalutazione, assolutamente, è perché comunque c'è necessità, insomma, di riattivare un po' le scuole, sono fondamentali per i ragazzi, per i bambini. Poi anche questa riapertura progressiva, no? Fino alla prima media, giustamente. Poi se ne riparli l'anno prossimo, speriamo con nuove prospettive e con una situazione di vaccini completate. Era più importante avviare il commercio che avviare le scuole. I bambini potevano tranquillamente fare la DAD perché funziona. Quindi era importante, a mio avviso, continuare a casa. C'è il rischio che la situazione possa completamente degenerare e quindi compromettere queste settimane finali di anno scolastico? Sì, perché poi, in effetti, manca poco, insomma, alla fine della scuola. La cosa più importante, insomma, secondo me non erano gli alunni a scuola, assolutamente. Potrebbe compromettere anche la problematica dei contagi e intensificarsi. Quindi lei è d'accordo quando De Luca parla più che di classi d'età, di classi di lavoratori, quindi di persone che hanno bisogno di ritornare a lavorare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché questo problema non è un problema che si risolverà a breve. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.